Comitato Divina Proporzione a Vallo della Lucania chiede l'abbattimento della fontana, mega fontana realizzata in piazza cattedrale, rientra in questo progetto di riqualificazione di uno degli angoli più belli della nostra città. Che cosa sta succedendo? Lo chiediamo ad Augusto Lenza che fa parte del Comitato Divina Proporzione. Mi voglio agganciare immediatamente a quello che è successo proprio ieri sera. Ieri sera c'è stata una bella manifestazione di un coro verdiano di Salerno e subito dopo il Vapensiero tratto dal Nabucco di Verdi, il Vapensiero ricordiamoci che è da sempre considerato una metafora della condizione del popolo assoggettato agli austriaci, è un canto di liberazione bellissimo risorgimentale. C'è stata questa nota diciamo stonata del sindaco che ha urlato in modo piuttosto vehemente contro chi sta combattendo secondo me una giusta battaglia che riguarda diciamo una battaglia di buon gusto. Il problema vero è questo qua. Quella fontana è una fontana che io credo nella sua grandezza e anche per i materiali che sono stati usati ha un po' stravolto l'anima, lo spirito del luogo diciamo del quartiere. Secondo me è anche sfuggita nella sua grandezza un po' a tutti perché non è stata calcolata già all'inizio una giusta proporzione tra la grandezza della fontana e il piccolo sagrato, la piccola piazzetta che è antistante la porta principale della nostra cattedrale. Il fatto di non valutare immediatamente questo problema e noi già avevamo il 20 giugno appena incominciava ad alzarsi questo manufatto molto grosso diciamo grossolano che adesso è chiaramente osceno e non è ben visto dalla maggior parte dei vallesi. Io penso che se invece di aver provocatoriamente detto, chiesto ai vallesi abbattiamola, avessimo semplicemente detto vi piace la fontana avremmo avuto un coro di no. Però dico questo manufatto che è sorto così in modo avulso, decontestualizzato proprio dalla storia, dalla bellezza, dalla fragilità di un quartiere storico poteva già un mese fa essere bloccato, bastava che soltanto il sindaco, l'ufficio tecnico, la sovrintendenza, la commissione paesaggistica del comune eccetera avessero preso visione di quello che stava succedendo. Siete sempre i soliti, no siamo i soli purtroppo è diverso. Spero che adesso non siamo più soli perché stiamo acquisendo, prendendo centinaia di firme soprattutto di ragazzi e quindi che non sono neanche assoggettati ancora psicologicamente al potere diciamo precostituito. Hanno per fortuna una libertà e spero che prima o poi uno di questi ragazzi sia il sindaco futuro fra non molti anni e si ricordi che ha firmato per l'abbattimento di quella fontana. Possiamo sperare, io dico soltanto nel buonsenso e nel ricordo, ecco nella memoria di uno di questi ragazzi che spero rimarrà a ballo e si impegnerà politicamente se non ci riusciamo noi ad abbatterlo che la si tolga, si renda quel quartiere non mummificato come gridava ieri il sindaco ma ancora diciamo con una sua bellezza, con una sua storicità, un qualcosa che ci ricorda ancora che là è nato il primo nucleo di valo della Lucania. I basiliani nell'anno 1000 costruirono la prima cattedrale, nel 1690 fu abbattuta la prima cattedrale, se ne conservano ancora dei freggi, una parte dell'altare maggiore, una parte dell'altare laterale, un affresco dell'anno 1000 nascosto dietro una pittura su supporto ligno, sono stati trovati anche dei basamenti ora che hanno fatto la ristrutturazione della pavimentazione e c'è ancora un, anzi guardate l'importanza della memoria, c'è un portale nella parete diciamo nel muro sud ovest della nuova cattedrale che ricordava, ricordava, vedete l'importanza della memoria, l'ingresso della vecchia cattedrale. Quindi quella cattedrale ha una sua storia, una sua fragilità che era importante non alterare. Quando si fanno scelte importanti per il paese, soprattutto quando si incide in modo così forte sull'ambiente storico vallese, c'è bisogno di urbanisti, storici dell'arte, paesaggisti, restauratori, non si può agire in questo modo. Dicevo, ieri gridava contro questo coloro che si stanno mettendo di traverso, cioè coloro che criticano, coloro che vogliono consigliare, coloro che hanno ancora conservato il senso della memoria e del buon gusto e disse io vado avanti come un carro armato. Io consiglio il sindaco di andare avanti con un carro armato, andare con un carro armato in quella piazzetta e abbatterla. Noi lo faremmo sindaco a vita, anzi perché dimostrerebbe una cosa importante, che se uno si rende conto dell'errore fatto può retrocedere, può prendere visione, può accettare che la maggior parte della gente dice guarda quella fontana è una cagata pazzesca e va abbattuta. Bene, se una persona è così in gamba, così intelligente da prendere visione dei propri errori e salire su un carro armato e andare ad abbattere quella fontana, fontana è un po' troppo. Bene, questo personaggio, questa persona è una persona importante. Secondo lei al sindaco piace questa fontana? No, al sindaco questa fontana non piace. Io penso che sia successo una cosa strana, che poi errore su errore, si sono montati una serie di errori. Qual è stato il primo errore? Il rendering, quindi il disegno fatto dal progettista, faceva denotare una cosa carina, c'è una fontana che più o meno, se uno la vedeva con le persone, mettendo in proporzione le persone sedute, la fontana, la fontana era alta più o meno un metro e sessanta, non era molto grande, non era invadente, i colori erano più o meno abbastanza idonei per il quartiere, anche se i materiali erano contestabili, marmi, cioè materiali non idonei per quell'ambiente. Invece per chi non è stato in piazza ora, che misure ha questa fontana? Allora, le misure sono queste, è alta 3 metri e mezzo, è qualcosa su 10 metri cubi credo di cemento. Invade, per chi discende dalla discesa di via Roma, si impatta immediatamente in un muro di circa 4 metri che fa parte di questa fontana, è molto spigolosa, è presepiale perché c'è un ulivo che non significa granché sulle mattonelle, credo che pianga molto quell'ulivo. Poi il tocco finale che naturalmente sappiamo che è quello che ha scosso di più i sentimenti estetici di, diciamo, del buon gusto su quelle mattonelle effettivamente, che però sembra che possano essere e che già penso che si debbano e si possano togliere. Ma non è il problema delle mattonelle, il problema è la grandezza che non è proporzionata alla piazzetta. Penso che questo progetto sia sfuggito di mano. Allora, quando si è incominciato a innalzare i 3 metri, 3 metri e mezzo, eccetera, poi per un problema anche di motori, di creare ancora un'ulteriore superfetazione, di stravolgere l'idea del tecnico, si è visto questo manufatto così imponente, così decontestualizzato che toglie respiro, spazio e che c'entra davvero poco con il nostro santo quartiere. Quindi il quartiere grosso modo è stato ricostituito, però ricostruito, restaurato, però quell'impatto così grosso, così invadente ha sicuramente snaturato le buone intenzioni che c'erano. Poi i particolari, rompere le basole davanti alla chiesa per inserire dei fari, quello è uno schiaffo alla memoria. È un qualcosa che è tutto rimediabile. Quello che è difficile da togliere ora sarà naturalmente la fontana. Però nell'ottica dei recuperi dei centri storici, perché in un posto che era degradato, credo che si sia creato con quel manufatto un altro degrado. Nell'ottica dei recuperi si può agire. Abbattono le vele di scampia. Io proponevo molti anni fa l'abbattimento di Palazzo Russo, che è stato quello che ha sicuramente negli anni 60-70 rovinato, pugnalato il cuore della città. Naturalmente su degrado non si può creare un altro degrado. Non possiamo fare la cultura da bar dove si dice vabbè ma Vallo già è degradato, Vallo già è e quindi una fontana. No, quella fontana crea, come diceva l'avvocato di Vietri l'altro giorno, un precedente assurdo dove si dà la possibilità un domani di creare un altro degrado, un'altra struttura oscena, kitsch, che non ha senso in altri luoghi. Era rimasto intonso solo un quartiere, povero sì, con tubi infissi di alluminio, cavi eccetera, però i restauri si fanno con piccoli accorgimenti. Bastava restaurare le facciate, proporre, incentivare e aiutare i privati a mettere a posto i propri edifici e il quartiere, come in tutti i quartieri, come in tutti i paesi che vivono di turismo, si sarebbe diventato un bel quartiere, un quartiere elegante, un quartiere dove poteva venire gente, ma la gente adesso perché deve venire? Facciamo turismo del kitsch, adesso vengono a vedere, vengono molte persone a vedere e a vomitare, a dare giudizi pessimi su quella fontana. Non possiamo avere un turismo kitsch, dobbiamo annelare un turismo storico, elegante, non degradante. Questo è quello che chiediamo. Se c'è ancora una possibilità di mettere mano a quella fontana, che lo si metta con il cararmato che il sindaco stesso invito a guidare in un gesto surreale e interessante di portare avanti. Io penso che sia un'azione che vada al di là di qualunque, sarebbe un gesto talmente, ma che va al di là veramente del surrealismo, un gesto ideologico importante. San Pantaleone gliene sarà grato sicuramente. 지금은 inما她 diventando i gained'.